Karl Marx è stato un filosofo, economista, sociologo, storico, giornalista, intellettuale e politico comunista tedesco di origine ebraica. È considerato uno dei pensatori più influenti della storia dell'umanità, e le sue idee hanno avuto un impatto profondo sulla politica, l'economia e la società del mondo moderno. Marx nacque a Treviri, in Germania, il 5 maggio 1818. Studiò giurisprudenza e filosofia all'Università di Bonn e di Berlino, e si interessò presto alle idee socialiste. Nel 1842 iniziò a lavorare come giornalista a Colonia, dove pubblicò diversi articoli critici del capitalismo. Nel 1843 sposò Jenny von Westphalen, e nel 1844 incontrò Friedrich Angels, con cui strinse una profonda amicizia e collaborazione intellettuale. Nel 1848, Marx e Angels pubblicarono il Manifesto del Partito Comunista, un documento programmatico che espose le basi teoriche del comunismo. Il manifesto sosteneva che la storia era un processo di lotta di classe, e che il capitalismo era destinato a essere rovesciato dalla rivoluzione proletaria. Dopo la pubblicazione del Manifesto, Marx fu costretto a lasciare la Germania a causa delle sue idee politiche. Si stabilì a Londra, dove trascorse il resto della sua vita. A Londra, Marx continuò a lavorare sulle sue teorie, e pubblicò diversi libri importanti, tra cui il capitale, 1867, una critica approfondita dell'economia capitalistica. Marx morì a Londra il 14 marzo 1883. Le sue idee continuarono a diffondersi e a influenzare la politica e la società del mondo moderno. Le idee di Marx Le idee di Marx sono complesse e articolate, ma possono essere sintetizzate in alcuni punti fondamentali, la concezione materialistica della storia. Marx sostiene che la storia è determinata dalle condizioni materiali della vita, e in particolare dal modo di produzione. Il modo di produzione è l'insieme delle relazioni sociali che governano la produzione e la distribuzione dei beni economici. La lotta di classe Marx sostiene che la storia è un processo di lotta di classe. Le classi sociali sono gruppi di persone che hanno interessi economici e culturali in conflitto. Nel capitalismo, le classi sociali principali sono la borghesia, che detiene i mezzi di produzione, e il proletariato, che vende la propria forza lavoro alla borghesia. La rivoluzione proletaria Marx sostiene che il capitalismo è destinato a essere rovesciato dalla rivoluzione proletaria. La rivoluzione proletaria è una rivolta del proletariato contro la borghesia, che porterà alla creazione di una società socialista. Il socialismo. Il socialismo è una società in cui i mezzi di produzione sono di proprietà comune e i beni sono distribuiti in base ai bisogni. L'influenza di Marx. Le idee di Marx hanno avuto un impatto profondo sulla politica, l'economia e la società del mondo moderno. Il comunismo, la teoria politica elaborata da Marx, è stato un movimento rivoluzionario che ha avuto un ruolo importante nella storia del ventesimo secolo. Le idee di Marx hanno influenzato anche altri movimenti politici e sociali, come il sindacalismo, il socialismo democratico e il movimento dei diritti civili. Le sue idee sono ancora oggi oggetto di dibattito e discussione, e continuano a ispirare e a influenzare le persone di tutto il mondo. Eredità di Marx. Karl Marx è una figura controversa, ma è innegabile che sia stato uno dei pensatori più influenti della storia dell'umanità. Le sue idee hanno avuto un impatto profondo sulla politica, l'economia e la società del mondo moderno, e continuano a essere discusse e studiate oggi. L'eredità di Marx è complessa e sfaccettata. Da un lato, Marx è considerato il padre del comunismo, una teoria politica che ha avuto un ruolo importante nella storia del ventesimo secolo. Dall'altro lato, Marx è anche considerato un importante pensatore sociale, le cui idee hanno influenzato altri movimenti politici e sociali, come il sindacalismo, il socialismo democratico e il movimento dei diritti civili. Indipendentemente dal proprio punto di vista, è innegabile che Karl Marx sia stato una figura fondamentale nella storia del pensiero umano.